Venerdì 21 marzo, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, i giornalisti e i critici musicali Ernesto Assante e Gino Castaldo racconteranno la musica italiana degli anni 90 con l'aiuto di uno straordinario testimone di eccezione, Rosario Fiorello. Appuntamento presso l'Auditorium Parco della Musica alle ore 21 a Roma. Costo del biglietto a 10 euro. Per ulteriori informazioni www.auditorium.com, biglietteria, telefono 199 109 783. È giunta la quinta edizione, la manifestazione Pasqua Jazz è promossa ed organizzata dalla Prologo di Fondi e da Magic Service sotto il patrocinio dell'assessorato al turismo, che avrà luogo il 23 marzo nei pressi del Cassaro di Fondi a Piazza San Francesco. Sul palco esesibirà l'artista romana Ilaria Patassini in arte pilar, già protagonista in importanza di manifestazioni. Per informazioni 0771 501094. Prosegue fino al 24 marzo il Festival di Canto e Teatro Sacro Popolare nei Timoni alle Bendici dei Monti Lepini, Artena, Bassiano, Giuginello, Segni, Priverno, Maenza, Rocca Gorga e Sezza Romano. Nel corso della Settimana Santa le comunità locali si trasformano in vere e proprie macchine creative e organizzative, con un ricco programma di eventi musicali, di teatro popolare, di momenti gastronomici e culturali. Quest'anno il Festival è alla sua seconda emizione, evidenziando la forte devozione di questo pezzo di terra che diede dei Natali a Santi, Papi e Polporati. Sul sito della Compagnia delle Pini il programma della settimana. Per informazioni 0773 889644. Giorno 22 marzo 2008 prende in via l'edizione numero 408 della storica Fiera di Grotta Ferrata che raccoglie sbagliati settori merceologici. La Fiera si concluderà giorno 30 marzo 2008. Orari di apertura dalle ore 10 alle 21 e 30 con chiusura dell'ingresso della biglietteria alle ore 20 e 30. Entrata gratuita da lunedì al venerdì. Sabato e domenica ingresso a 3 euro per gli adulti e libero per i bambini. Per informazioni fiera at comune.grottaferrata.roma.it sito www.comune.grottaferrata.roma.it telefono 069410556. Ritorna a Curtunz, il festival internazionale di cortometaggi e animazione, dal 27 al 30 marzo al Teatro Palladium di Roma. La manifestazione giunta alla sua quinta edizione rappresenta il luogo di incontro per artisti, professionisti e appassionati dell'animazione. Anche quest'anno un programma ricco di appuntamenti. L'ingresso è gratuito. Per informazioni 06 45 43 65 33. Info www.curtunz.it Il sito è www.curtunz.it. Potete anche consultare la sezione eventi del nostro portale. Si celebra anche quest'anno la Settimana della Cultura. Dal 25 al 31 marzo, monumenti ai siti archeologici statali saranno accessibili gratuitamente e sarà possibile fruire di una grande varietà di iniziative, come visite guidate, concerti e spettacoli, proiezioni, mostre e conferenze e attività didattiche per i giovani. Aderiscono all'iniziativa anche istituzioni private, quali musei, associazioni e fondazioni, che consentiranno l'ingresso gratuito a strutture come archivi, biblioteche, musei, gallerie e aree archeologiche. L'iniziativa è promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali. E-mail settimanacultura-veniculturali.it sito web www.veniculturali.it. Giuseppe Bonavieri e le sue poesie saranno protagonisti della serata di venerdì 21 marzo, con inizio alle ore 19, presso il cinema Zuru Scipioni di Evole. Lo scrittore siciliano, originario di Mineo in provincia di Catania, verrà omaggiato con il recital L'essenza dello zero, interpretato da Marco Castelli e Valentina Ferraro per la regia di Massimiliano Perrotta. Lo stesso Bonavieri sarà poi invitato a recitare alcune delle sue poesie più belle. L'incontro, che si inserisce dall'iniziativa e dalla festa della poesia, si concluderà con la proiezione del documentario Bonavieri il ritratto, realizzato da Massimiliano Perrotta nel 2007 dalla Fondazione Giuseppe Bonavieri. Il cinema Azzurro Scipioni è a Roma in via degli Scipioni 82, ingresso 6 euro. Per informazioni www.azzurroscipioni.com È il 25 marzo la data ultima per l'invio dei racconti nell'ambito di Resistenza 2008, il concorso di narrativa promosso dal laboratorio letterario Anonima Scrittori, oramai giunto alla terza edizione. La serata di premiazione del concorso, che ha come tema storie di resistenza combattute individualmente ogni giorno, è in programma il 25 aprile, anniversario della liberazione, presso il Teatro Fellini di Pontino, in provincia di Latina. Tutti i racconti verranno pubblicati in formato pdf sul sito di Anonima Scrittori e quelli selezionati dalla giuria saranno pubblicati anche nel libro dal titolo Resistenza, manuale di storie contemporanee, edito dalla casa editrice Argonal. I lavori possono essere inviati entro la mezzanotte del 25 marzo all'indirizzo resistenza-chiocciola-anonima-scrittori.it. Per info e contatti info-chiocciola-anonima-scrittori.it. In occasione della decima settimana della cultura, giovedì 27 marzo alle ore 20, presso il complesso monumentale di San Michele Ripa Grande, in Roma, verrà proiettato Bellissime, film della regista Giovanna Gagliardo, che racconta il cammino della donna italiana lungo il XX secolo attraverso documenti storici dell'archivio luce, spezzoni di film, canzoni popolari ed interviste di repertori. In sala sarà presente la regista. Prima della proiezione, invece, è prevista una riflessione sul Novecento dal punto di vista dell'arte, dell'architettura e dell'antropologia. L'ingresso è gratuito. Per informazioni telefono 0669 203230.